A distanza di due anni le Macalube di Aragona sono tornate a dare spettacolare manifestazione della loro attività. Nei giorni scorsi si è registrato infatti un nuovo fenomeno di ribaltamento della collina, che si è mostrato ancora più imponentemente dei precedenti. Un fenomeno naturale improvviso con eruzioni pari a circa 20.000 metri cubi di fango misto ad acqua e gas. L'ultimo episodio di vulcanesimo sedimentario era stato filmato appunto nel 2008 dalla stessa associazione Lega Ambiente che attualmente gestisce la riserva a pochi chilometri del centro aragonese. Ed è proprio dalla suggestività del fenomeno eruttivo della sorgente che all'area delle Macalube viene attribuito anche un valore magico soprannaturale, accompagnato dalla leggenda che nel luogo vi fosse in un tempo lontanissimo una città seppellita in seguito ad un capovolgimento della terra. Il sito per il quale nel 2004 la Commissione europea si è pronunciata positivamente sul progetto Life Natura, conservazione degli habitat delle Macalube di Aragona, proposto dalla provincia di Agrigento e che vede quali partner Lega Ambiente e il Comune di Aragona, è anche metaturistica a visitarla, soprattutto le scolaresche.